No, that's how I know, feel it in my bones. Marita ovviamente c'è sempre Alberto Negri, presidente di Spazio Tesla. E Laura Gruppi, ciao Laura. Ciao, ciao a tutti. Ce la facciamo, eh? Ce la facciamo. È l'ultima puntata, prima dello stop estivo. È l'ultima puntata. Esatto, esatto. Anche perché questa è una puntata pregna. È una puntata importante, avevamo fatto una promessa di parlare di nuovo di Majorana, ma in modo particolare in questa puntata parleremo della macchina di Majorana e noi abbiamo chiamato e abbiamo voluto accanto a noi un esperto che è Adolfo Bruno. Grazie. Ciao a tutti. Grazie per essere qui. Grazie. Adolfo è ricercatore indipendente, è cultore di scienze fisiche e astronomiche, ha una grande passione per la storia e la fisica di Majorana. Ricordiamo tra l'altro che nel Majorana Day, che è stato realizzato da Spazio Tesla nel dicembre dello scorso anno, ha realizzato un bellissimo video dove in maniera molto chiara ci ha spiegato chi è Majorana, ci ha proposto tutte le ipotesi della sua scomparsa, di cui noi avevamo già parlato in una precedente puntata, quindi non sarà argomento di questa puntata e di tante curiosità. Questa sera invece ci soffermeremo, Adolfo, sulla macchina di Majorana, perché c'è davvero anche lì un grande mistero. Sì, io posso un attimo raccontare come che sono arrivato a sapere della macchina. L'ultima cosa che avevo letto di Majorana, poiché qualunque pubblicazione che esca, la leggo per enorme interesse e curiosità. Vediamo qua. Sì, infatti qua c'è un po' di... che non sono tutti poi, eccetera. Allora, diciamo che il 90% di quello che è stato pubblicato sono riuscito a leggerlo negli anni. E l'ultimo libro che avevo letto, ero andato nella libreria dove vado di solito a Pavia, una libreria universitaria, e avevo letto, comprato e letto velocemente il libro di Ceresini, Borello e Giroffi, La seconda vita di Majorana, che riguarda, diciamo, la vita in Venezuela. Che poi si conclude, loro speravano di poter trovare il cimitero in cui il signor Bini, alias Majorana, era sepolto, ingegner Bini, per poter fare analisi del DNA. Purtroppo c'è stato un incendio in cui, diciamo, anche i corpi sepolti in quel cimitero non ci sono più. Quindi si conclude, la prova, diciamo, conclusiva viene a mancare. Quindici giorni dopo, un amico mi avvisa che c'è stata una trasmissione della RAI, quella di Giacobbo, Voyager, in cui hanno parlato ulteriormente di Majorana, ma sarà sul libro di Ceresini. L'indomani la recupero sulla RAI, RAI Play, e vedo un signore che non conoscevo, di una certa età, che racconta qualcosa che, sinceramente, lì non sono riuscito a capire, perché poi gli parla a sette minuti, però ho visto che c'era un libro. Questo libro qua, mi sono appuntato il titolo, il Sacreto di Majorana, e sono andato a cercarlo nella mia solita libreria universitaria, e non c'era. Ho detto, ma come è possibile? Anche loro, insomma, si sono preoccupati, abbiamo tutto di Majorana. Ma aspetta, mi dice il libraio, aspetta un attimo, ma qual è la casa editrice? Ah, ma vai qui dietro, dietro l'angolo. È una casa editrice che produce, diciamo, tra l'altro fa anche tesi di laurea, eccetera. Così ho atteso, insomma, ho comprato, ho acquistato il libro, mi hanno detto, ah, lei sicuramente è uno di quelli che ha visto la trasmissione di Voyager, sì, sì. Niente, il libro l'ho divorato, perché contiene tutta una serie di cose che, diciamo, non mi aspettavo assolutamente, e c'è una visione totalmente nuova. Eccolo qua, il segreto di Majorana. Vedete bene. È un bel tomo, eh? Un bel tomo. C'è una prefazione a cura del professore Erasmo Recami, che è il biografo ufficiale, diciamo, di Ettore Majorana. Ecco, io vi do un'indicazione, tra l'altro ho chiamato il professore Recami, con il quale abbiamo veramente instaurato un ottimo rapporto. E' in Brasile, in questo periodo, gli ho scritto, caro Erasmo, stasera siamo in onda, puoi anche partecipare, se vuoi. Eventualmente, non lo so, vediamo se riuscirà a chiamarci, ma... In ogni caso abbiamo un contributo, abbiamo alcuni contributi video questa sera, tra cui anche quello del professore Erasmo Recami. Sono tutti i contributi che abbiamo realizzato durante, appunto, il Majorana Day, organizzato da Spazio Tesla, tra l'altro un evento che ha avuto un grande successo. Perché? Perché Majorana, che è andato nel dimenticatoio per tanti anni, invece ora, diciamo, che scaturisce molto interesse. Dovunque, poi ci sono ricerche in tutto il mondo sui fermioni di Majorana, per esempio. Sì, sì, esatto. Io direi, visto che questa sera parleremo della macchina di Majorana, perché la macchina di Majorana, Adolfo, può fare delle cose straordinarie. Se ce le vuoi solo accennare, dando poi però a questa trasmissione un dettaglio ecologico, perché in effetti noi ormai siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno. Il nostro pianeta è malato, come dice Alberto Lori, alla febbre, e ormai la temperatura si sta alzando, proprio di questa febbre, tantissima. La macchina di Majorana potrebbe darci, così, delle soluzioni. Perché? Sì, allora, nel libro vengono descritti quattro livelli di funzionamento di questa macchina. Questa macchina è racchiusa all'interno di un cubo che ha il lato di, credo, poco più di 50-60 cm circa, più o meno, quindi siamo nell'ordine del metro. E la prima caratteristica di questa macchina è che produce fasci di antiparticelle, quindi antimateria. E selettivamente può, diciamo, ecco, diciamo, si può decidere, programmandola appositamente, c'è un libretto di istruzioni che credo che abbia più di 100 pagine, che è in mano soltanto a Rolando Pellizza, si può produrre qualsiasi tipo di atomo di antimateria, qualsiasi tipo di antiatomo. Diciamo, nella scala, diciamo, periodica, sono 92 gli atomi che si trovano in natura e c'è la possibilità di produrre altri 92 tipi di antiatomi, cioè con le cariche elettriche invertite. Allora, questa è una cosa notevole, perché noi dobbiamo ricordare che poco dopo il 2000, per la prima volta al CERN, un anello di 30 chilometri, è stata prodotta una manciata di atomi di antiidrogeno che sono sopravvissuti un millesimo di secondo, perché poi si sono annichiliti nel contatto con gli atomi di idrogeno, perché per quanto si possa fare il vuoto più spinto, materia sempre ne rimane. Per cui, ora, il fatto di poter, diciamo, creare, non in un anello di 30 chilometri, ma in una macchina che ha il lato, un cubo che è minore di un metro, 52 per... è un fascio stabile, un fascio stabile, quindi sicuramente si vanno annichilendo, annichilendo via via che escono al contatto con gli atomi, diciamo, della stessa sostanza, però il fascio è continuo, quindi questo fascio stabile che produce antiatomi di tutti i tipi, effettivamente, come dice Recami, può averla fatta soltanto un genio, e allora tale genio che l'ha, diciamo, progettata, ma sì, chi può averla fatta se non Majorana? Non conosciamo attualmente, no? Nessun fisico di quella levatura. Ricordiamo, tra l'altro, Adolfo, che Majorana faceva parte dei ragazzi di Via Panisperna, all'interno c'era Enrico Fermi, considerato un grande della fisica, ma lui stesso diceva che Majorana era superiore ed era un genio come Galileo e Newton. Non si sa perché non abbia citato Einstein in quel periodo, ma forse il governo fascista Einstein, Rebreo, insomma. Io direi, se ci fermiamo un attimino, perché a questo punto, no, tu vai pure avanti, e poi, intanto do solo qualche indicazione alla regia, ci prepariamo a vedere il video di Alberto Lori. Prego, andiamo. No, se rieganciarmi quello che ha detto, appunto, Adolfo, qua nella prefazione del professor Recami, è ben descritta, dice, al punto 2, sulla macchina di Rolando Pelizza, che è discepolo di Majorana, dice, pur non avendola mai vista in azione, è nata in me l'impressione che essa esista davvero, anche sulla base di dichiarazioni, quali quella era data nel 1976, dal professor Clementella, che faceva parte allora del presidente del CNEN, Comitato Nazionale per la Legge Nucleare, sostituito poi dall'Enea, dopo il referendum per l'abolizione del settore nucleare. Questo ci fa capire come, come il professore Cami, e merito fisico, io ritengo tra i più eclettici del mondo, del panorama a livello mondiale, perché ha anche teorizzato la velocità superluminale, quella di Tachioni, si capisce quanto si è allargata la sua visione. Ma infatti poi di questo parleremo perché è importante, perché ancora oggi ci si chiede ma esiste la macchina di Majorana? È vero che sono stati fatti degli esperimenti, quindi poi Adolfo ci parlerà anche di questo. Allora, noi ritorniamo a quello che è un po' la combinazione tra la macchina di Majorana e il problema che il nostro pianeta ha tutt'ora, quindi l'aspetto diciamo ecologico che vogliamo dare anche alla trasmissione di questa sera, quindi farei partire il bellissimo video realizzato dal ricercatore Alberto Lori. Poi lo vediamo meglio questo. Quindi adesso il nostro Max, ecco in regia abbiamo Max, Petrugno per la parte video. e mi arconosi per l'audio. Prego. La Terra, il nostro pianeta, ha la febbre. E non poteva essere altrimenti, visti gli abusi cui la sottoponiamo. Il clima, basta vedere le bombe d'acqua di quest'estate, da tempo si sta modificando e il problema sta tutto nella rottura di certi equilibri che il sistema complessivo Terra aveva nel passato. Sono tre i disequilibri che stanno sconvolgendo l'ecosistema terrestre, buco dell'ozono, anidride carbonica in eccesso ed effetto serra. L'ozono è il filtro nella stratosfera che impedisce il passaggio al 99% delle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole. Se comincia a rarefarsi o, peggio, si creano dei buchi, come sta accadendo al di sopra dell'Antartide, la nostra pelle non sopporterebbe a lungo il bombardamento dei raggi solari e finirebbe in disfacimento. Eccesso di CO2, ovvero di anidride carbonica nell'atmosfera. Noi stessi inspiriamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica. Le piante vivono e si nutrono con essa, ma non è questo il problema. Il problema è che questo gas viene emesso in gran quantità con i processi industriali, con il riscaldamento delle abitazioni e con i veicoli alimentati a benzina o gasolio. E in più ci mettiamo anche la deforestazione dissennata che avviene in varie parti del pianeta, a cominciare dall'Amazzonia, vero polmone verde del nostro pianeta. L'anidride carbonica ha poi un ciclo di permanenza in atmosfera di circa 200 anni. Ciò significa che la quantità di CO2 introdotta fino ad oggi nell'atmosfera, anche se smettissimo di produrla fin da adesso, per altri due secoli continueremo a tenerci questo gas senza riuscire a smaltirlo. L'eccesso di CO2 produce un alterato effetto serra. Un'equilibrata quantità di anidride carbonica consente di trattenere quel giusto numero di radiazioni solari per mantenere temperata la temperatura media della Terra. Ma se la coltre di CO2 diventa più spessa, non consentirà ai raggi solari di rimbalzare via, con il risultato di fare aumentare a dismisura la temperatura terrestre. Ecco la febbre che agita il nostro pianeta. Con quali conseguenze? Scioglimento progressivo dei ghiacciai e conseguente innalzamento dei livelli dei mari, elevata crescita di umidità e delle precipitazioni atmosferiche, estremo caldo ed estremo freddo, pesante alterazione del meccanismo di formazione dei venti, il che vuol dire uragani di inaudita violenza e catastrofici tsunami. Che cosa si può fare allora? Purtroppo, allo stato attuale, non si può fare niente per distruggere o trasformare le molecole di anidride carbonica stazionanti nella nostra atmosfera. Analogamente, non è possibile ricucire i buchi dell'ozono. L'unico accorgimento che potremmo fare, suggerisce la scienza, è cominciare ad adattarci ai cambiamenti climatici. Questo però deve essere messo in atto subito e a costi molto elevati. Gli scienziati più pessimisti prevedono le prime catastrofiche conseguenze a partire dagli anni trenta e quaranta di questo secolo. Cosa possiamo fare allora? Praticamente nulla. L'uomo ha finito per segarsi il ramo sul quale sta a cavalcioni. Tuttavia, in questa vicenda c'è un elemento misterioso che emerge da uno dei misteri più clamorosi del ventesimo secolo, la scomparsa di Ettore Majorana, un fisico eccelso, facente parte negli anni trenta del celebre gruppo di Enrico Fermi, i ragazzi di Via Panisperna di Roma. Ebbene, qualcuno dice che Majorana aveva voluto scomparire e ritirarsi in un convento perché spaventato dalle conseguenze della scissione dell'atomo alla quale i suoi colleghi stavano aggiungendo per poi riemergere molti anni dopo nel 1958 per coinvolgere nei suoi studi un giovane Rolando Pelizza e da quel momento in poi sarebbe diventato un fido collaboratore. Prova della sua ricomparsa sarebbero alcune stupefacenti foto e alcune lettere indirizzate al fisico Erasmo Recami. Foto e lettere sarebbero state periziate e le perizie avrebbero dimostrato la loro autenticità. Non è compito di questo video andare ad approfondire il mistero Majorana. Ciò che mi preme rilevare è che Majorana stesso pare avesse avuto tra i suoi interessi anche quello del clima e dei cambiamenti climatici. Già nel 1976 ci dice l'ingegner Alessandrini studioso di Majorana aveva esposto una sua teoria della quale prevedeva quale sarebbe stato l'andamento climatico della Terra negli anni a venire. In seguito lo scienziato scrive una lettera al fisico Recami nella quale sostiene che già i primi sintomi sarebbero apparsi agli inizi del 2000 con un peggioramento progressivo a partire dal 2010 in seguito al quale è lecito attendersi vere e proprie catastrofi ambientali. Majorana prevede che già dal 22 al 24 di questo secolo ci sarà una precipitazione delle condizioni climatiche con eventi disastrosi. Parla ad esempio di uragani dai 400 ai 600 chilometri orari del tipo di quelli che sconvolgono la superficie del pianeta Venere. Lo stesso Stephen Hawkins prima di morire aveva previsto che la Terra era destinata in un futuro più o meno lontano a diventare come Venere. Una piccola speranza però c'è. Grazie alla nuova fisica di Majorana pare sia stata costruita una macchina che tra le sue altre peculiarità ha quella di trasmutare la materia. Come dire che se il suo raggio fosse indirizzato su una bottiglia di vetro la trasformerebbe in una bottiglia d'acciaio. Fantasia? È il sogno dell'alchimista di trasmutare metalli in oro? Non è fantascienza. Pare che per la fisica teorica non sia un assurdo e sembra che Rolando Pelizza costruttore del congegno ideato da Majorana ne abbia dimostrato le capacità trasmutando cubi di gomma piuma in oro. Pensate quindi amici miei come sarebbe bello se fossimo in grado con essa senza alcuna spesa di trasformare il CO2 in eccesso in ozono dove è carente o in aria pulita dove c'è troppa anidride carbonica. Purtroppo l'uomo di questo pianeta non solo sta segando il ramo dove sta a cavalcioni ma anche lo stesso albero sul quale sta appollaiato. Infatti interessi di parte profitti e il rischio di utilizzo della macchina per scopi di guerra e di potere impedisce che la straordinaria macchina di Majorana possa essere impiegata a vantaggio di tutti ma soprattutto del pianeta che ci ha dato dimora. Noi ringraziamo veramente tantissimo Alberto Lori perché ha consentito a Spazio Tesla di pubblicare sul proprio sito questo video e noi questa sera lo stiamo utilizzando come contributo importante per questa trasmissione che vuole parlare della macchina di Majorana ma anche di quanto potrebbe fare per il pianeta. Voglio ricordare alle persone che ci stanno seguendo che hanno la possibilità di porre delle domande ad Adolfo Bruno che è qui in diretta con noi questa sera scrivendo un whatsapp al 333 75 75 246 per chi segue la diretta Facebook c'è anche il numero in sovraimpressione potete anche telefonare al numero che ho appena dato 0523 590 590 abbiamo Alberto Lori che ci ha scritto e ci ha ringraziato del fatto che stiamo mettendo in onda il suo video e noi salutiamo Alberto grazie Alberto grazie mille voglio ricordare che ci sono tanti bellissimi video di Alberto che ha continuato poi questo discorso e poi lui si occupa veramente anche di tante altre cose interessanti e il sito è albertolori24 quindi approfittatene per andare a vedere perché vale veramente la pena Adolfo allora hai visto questo video io direi che l'associazione ambiente e soluzione macchina di Majorana ci sta tutta sì ci sta tutta io ero partito dal primo livello di utilizzo della macchina e quindi la produzione di atomi fasci di atomi di antimateria di qualsiasi numero atomico e però siccome questa è una cosa proprio incredibile non potrebbe dire una bufala allora io aggiungo due cose prima di chiudere questo punto che riguarda l'annichilamento e passare a livello successivo chiaro che quando ho cominciato a leggere le prime pagine ero piuttosto perplesso scettico però mi ha diciamo in qualche modo guidato quello che è il giudizio sintetico del professore Regami che tra l'altro nell'edizione che avevo io si trovava in una fascetta che era diciamo esterna al libro e comunque viene riportato diciamo alla fine della prefazione lui dice mi è stata chiesta una opinione la mia opinione è che il materiale contenuto in questo libro nonostante le iniziali incredulità che suscita meriti di essere esaminato con attenzione quindi anche a me ha suscitato soprattutto all'inizio leggi una cosa completamente diversa fuori da tutte quelle che hai letto fino a quel momento eccetera però a parte diciamo che ci sono citati una quantità enorme di personaggi della politica italiana e straniera che sono stati coinvolti perché gli esperimenti sono stati diversi sono stati fatti soprattutto nella località del Baremone ma ecco l'altra cosa che volevo dire Pelizza è riuscito poi attraverso l'allora onorevole Loris Fortuna a far interessare il Parlamento italiano per cui a un certo punto l'onorevole Giulia Andreotti ha disposto una verifica che è stata effettuata come abbiamo già detto al TNN il Centro Nazionale per l'Energia Nucleare di cui era presidente il professore Ezio Clemente un fisico quindi sono stati fatti questi esperimenti che fondamentalmente consistevano nel mettere una dietro l'altra due lastre di metalli diversi come per esempio zinco e ferro e allora Pelizza selezionava sulla macchina la produzione di atomi per esempio di antiferro la lastra che c'era davanti era di zinco veniva attraversata evidentemente perché non succedeva niente e invece si produceva istantaneamente un buco nella lastra di ferro che era dietro quella di zinco facendo l'opposto mettendo davanti la lastra di ferro e dietro quella di zinco selezionando la produzione di fasci di antizinco veniva prodotto un buco nella lastra che era dietro quella di ferro quindi questo per dimostrare il fatto che comunque veniva prodotto diciamo il tipo di atomo desiderato per cui non interagiva con l'atomo diverso ma ogni atomo si annichila con il rispettivo antiatomo Tanto Adolfo ce n'è una molto interessante fatta con una lastra di plexigas dietro una lastra di piombo mi sembra comunque di metallo che anche quella resta molto interesse perché vedere la lastra di materiale diciamo così più resistente dietro a quella della plastica e quella della plastica non essere neanche minimamente intaccata è quella veramente straordinaria anche quella esatto e diciamo tra l'altro c'è un video su youtube si può trovare curato dal professor no dall'ingegner Panetta che faceva parte della società che era stata costituita da Rolando Pellizza quindi poi le interpretazioni diciamo perché chiaramente Ezio Clementel e la sua equipe volevano poi controllare perché questa è una cosa è una scoperta eccezionale insomma se effettivamente è così quindi le interpretazioni si i lavori si bloccano anche perché poi Clementel verrà qualche anno dopo destituito dall'insegnamento c'è un fatto un po' strano figura una sua firma un esame di un candidato di uno studente quando a quanto pare lui sul libretto e sul registro a quanto pare lui non era presente invece a quell'esame quindi parte tutta una una campagna per screditarlo insomma poi morirà poco tempo dopo di cancro quindi poi si è fermato tutto e invece in che anni stiamo parlando stiamo parlando del 1976 gli esperimenti del CNEN sono del 1976 si blocca tutto poi purtroppo non c'è stata più la possibilità di fare un altro un altro esperimento diciamo da parte di un ente accreditato dallo Stato così importante ed è quello che noi diciamo vorremmo ed è effettivamente estremamente importante perché stando così le cose è veramente una scoperta epocale il secondo livello di utilizzo della macchina invece è quest'altro quello che più da vicino interessa l'aspetto diciamo così ecologico allora diciamo che in definitiva la produzione di energia sul nostro pianeta l'energia elettrica per esempio è la forma principale richiede per lo più in buona parte l'utilizzo di combustibili fossili come appunto carbone la cosa più antica metano petrolio perché tutte la maggioranza delle centrali elettriche come producono elettricità devono riuscire a mettere in moto un alternatore che ha delle pale abbastanza gigantesche e è il getto di vapore ad altissima pressione che le mette in moto l'alternatore ruotando come una dinamo di bicicletta produce corrente elettrica tra l'altro con dei rendimenti bassissimi adesso qui guardo il nostro Max al quale chiedo magari un numero dico una fesseria se il numero di rendimento di una centrale cosa si aggirerà attorno guarda i migliori alternatori che adesso non raggiungono il 70% non raggiungono infatti quello che dicevo quindi buttiamo via un sacco di energia un sacco di calori ripetiamo quello che ha detto Max perché appunto il sedo lontano non si sente ma parava che non superava il 70% assolutamente di rendimento con tra l'altro un'immissione in atmosfera di temperature elevatissime esatto perché quindi bisogna per produrre questo vapore bisogna riscaldare l'acqua a 100 gradi e questo viene fatto bruciando o carbone o metano o diciamo petrolio o combustibile e varie cose ok la maggioranza di noi delle persone che non hanno magari avuto la possibilità di approfondire dovrebbe essere insegnato a scuola sempre non mettono in relazione il fatto che lo spreco di energia elettrica significa aumentare la quantità di anidite carbonica nell'atmosfera perché la maggiore quantità di anidite carbonica viene prodotta per l'utilizzo dell'energia elettrica le macchine le auto eccetera si producono eccetera ma non tanto quanto l'utilizzo dell'energia elettrica la maggioranza delle centrali sono termoelettriche per fare ruotare le pale in modo diverso si abbiamo le centrali idroelettriche però ci vuole una montagna abbastanza alta dei laghi costruire delle dighe la caduta diciamo dell'acqua fa muovere diciamo queste pale e si produce inizialmente gli anni 60 l'Italia aveva un certo numero di centrali idroelettriche ma poi si è dovuta dotare di quelle termoelettriche che sono il 90% l'energia scusa intanto che tu parli stanno passando delle immagini che pregherei Max se potesse della trasmutazione della trasmutazione se riusciamo ancora a vedere è uno di questi cubi di gomma che attraverso poliestero o poliestero o comunque forse policarbonato eccola qua ecco qui in un millisecondo dobbiamo dirlo cos'è questa questa lastra qua questo cubo non è più un cubo di polistirolo espanso ma è un cubo d'oro sì ok ok quindi io mi fermerei qua non andrei è un contributo che ci hanno autorizzato appunto utilizzare che trovate su youtube ma comunque del gruppo ronando pelizia e majorana allora ci chiedono un attimo la linea dalla regia riprendiamo tra pochissimo qui su radio sound l'appuntamento è l'ultima puntata di it from bit prima diciamo delle vacanze dedicata alla macchina di majorana con in studio Adolfo Bruno a tra poco it from bit i quanti la materia l'energia e la coscienza giovedì alle 20 e 30 su radio sound le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati medici e ricercatori una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso acqua e coscienza l'interazione che guarisce non svegliamo nessun segreto no 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 assolutamente anche perché non ce ne sono non vado avanti su quello che non parlo del successivo livello però magari proprio perché siamo fuori onda ma aspettiamo sì però ecco siamo fuori FM diciamo fuori FM quindi il grande problema noi proseguiamo poi con Recami allora su internet ci siamo su internet ci siamo su Facebook ci ascoltano ufficialmente quindi il grande problema è soprattutto siccome è l'energia elettrica che muove il mondo è produrre energia elettrica attraverso centrali non termoelettriche quindi finora poi lo dobbiamo dire però in onda e quindi non non anticipiamo nulla perché poi dobbiamo dirlo per gli ascoltatori della radio ok abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità del nucleare perché il nucleare esatto e c'è nel nucleare il problema delle scorie ecco perché chiedevo mandiamo Recami poi ci leghiamo al fatto ecco preferite Recami mandarlo tutto dove nella prima parte parla di Majorana di quando lui comunque va 12 minuti 12 minuti oppure partiamo da 7 minuti e 23 che ore sono io parterei da 7 partiamo da 7 dalla domanda vedi va bene sì perfetto che volevo anche poi chiedere ad Adolfo un suo parere una sua opinione in merito all'ultima parte del video di Lori dove al di là appunto che dice che questa macchina potrebbe intervenire sul clima però dice che l'attuazione di questa macchina però visto che abbiamo visto che fa l'oro che trasmute e quant'altro c'è la preoccupazione a livello di un'etica dell'utilizzo di questa macchina quindi volevo proprio chiederti poi magari quando siamo in onda anche cosa ne pensi del livello etico che noi abbiamo per poter essere veramente dei buoni governatori di questa macchina la vuoi fare prima di Recami o dopo? la farei prima ok va bene adesso appena riprendiamo no no ma non dare risposta perché altrimenti poi la risposta me la dai dopo però è una ripetizione almeno a me personalmente è una non anticipiamo niente è un dubbio che mi angoscia abbastanza nel vedere poi come l'umanità a volte si comporta no? quindi è un livello il livello etico è un livello molto il livello etico e di coscienza quindi agire con scienza e coscienza ci vuole una buona capacità è un'etica che forse deve andare al di là poi delle compromissioni dei compromessi degli interessi ovviamente perché abbiamo visto il codice il codice deontologico non è proprio propriamente un un aspetto positivo un aspetto legato alla nostra civiltà poi c'è un'altra frase che si sente da tanto tempo una frase scritta anche nei testi sacri che dice che la giustizia non è di questo mondo però dobbiamo fare in modo di farla entrare tutti dei tasselli che mi creano ulteriore preoccupazione adesso che stiamo chiacchierando così non siamo in diretta ecco io posso siamo in diretta facebook però non dico nulla sulla macchina ma faccio un'osservazione perché per esempio allora gli scienziati che hanno fatto parte del cosiddetto progetto Manhattan avevano come obiettivo quello di arrivare alla bomba nucleare prima dei nazisti a un certo punto però è chiaro che i nazisti sono estremamente indietro allora insomma ci sono quelli che si ritirano e quelli che proseguono però tutti quanti anche quelli che proseguono quelli che anche credono che per sconfiggere il Giappone bisogna usare questa questa bomba così eccetera eccetera che quindi cadono in questo tranello dopo compreso lo stesso Enrico Fermi ritengono che un creatore diciamo del primo reattore nucleare a Chicago nel 1942 cosa ritiene Fermi che comunque l'energia nucleare deve essere utilizzata per scopi pacifici per scopi pacifici sì sì certo quindi è questa la sua vabbè una volta l'abbiamo utilizzata due volte per scopi bellici ora basta ma invece non è stato così perché noi dai libri di storia impariamo che le bombe sono state due anzi tre perché c'è prima l'esperimento Trinity del 16 luglio 45 nel deserto del New Mexico del New Mexico perfetto poi abbiamo quella del 5 o 6 agosto non mi ricordo mai di del Boi poi quella del 9 l'altra quella la bomba la seconda atomica ce ne sono state circa altre 2000 esplosioni atomiche in realtà e ben più potenti spesso di quella di Hiroshima tra poco siamo in onda siamo quasi in onda quindi non senti la sigla ah ok ancora non sentiamo niente non sentiamo nulla seguendo con molto interesse diciamo tanto per fare la esplosione più grande hit from bit i quanti la materia l'energia e la coscienza giovedì alle 20 e 30 su Radio Sound le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati medici e ricercatori una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso acqua e coscienza l'interazione che guarisce siamo di nuovo con voi qui su Radio Sound sui 95 94 e 6 ma salutiamo anche quelli che ci seguono sulla diretta Facebook tra l'altro ricordiamo che andando in diretta con Facebook c'è la possibilità poi e rientrando nella pagina di Radio Sound 95 di Spazio Tesla di rivedere questa puntata non appena sarà finita voglio segnalare il nostro numero 333 75 75 24 6 oppure 0523 590 590 il primo per i vostri messaggi whatsapp eventualmente il secondo per il telefono telefonate telefonate i numeri sono in sovraimpressione esatto vogliamo ringraziare Francesco e Cristina che salutano tutti quanti poi abbiamo Placido che dice impossibile non seguirvi troppo interessante grazie Placido e un saluto da Grupparello PC quindi potete comunque anche fare le domande capisco sempre territorio di Placido Grupparello grazie ciao Placido grazie grazie riprendiamo invece la trasmissione collegandoci un attimo al video di Alberto Lori che abbiamo visto con Laura che ha una domanda decisamente molto interessante da fare ad Adolfo Bruno che è qui con noi in studio questa sera sì il video di Alberto Lori chiude diciamo ponendo l'attenzione ok la macchina potrà fare qualcosa per il clima quindi potrà aiutarci in questa nostra chiamiamola tra virgolette quasi autodistruzione ma nello stesso tempo c'è un intero c'è un dubbio ma eticamente siamo pronti per governare una macchina che alla fine trasmuta la materia abbiamo visto che trasmuta materiali in oro cioè eticamente siamo pronti per riuscire ad essere effettivamente operare con scienza e coscienza nei confronti dell'umanità o qualcuno potrebbe prendere delle strade di convenienza di interessi diciamo che la storia personale di Rolando Bellizza dimostra che non siamo pronti come umanità infatti se fosse stato diversamente diciamo la macchina sicuramente sarebbe stata studiata più a fondo e probabilmente sarebbe stata diciamo utilizzata ecco invece lui ha fatto tutta una serie di esperimenti a parte diciamo la quelli di Clement e ne ha fatti altri sì che hanno destato grande interesse ma poi alla fine quelli che erano disposti veramente a utilizzarla quindi il governo degli Stati Uniti il presidente Gerald Ford mandò il suo segretario personale Matteo Tutino che era un ingegnere insomma hanno assistito agli esperimenti in cui si vede diciamo il funzionamento della macchina loro limitatamente alla prima fase annichilamento siccome Pellizza aveva spiegato che il raggio d'azione della macchina era di circa 1500 km l'esperimento conclusivo che loro hanno chiesto a Pellizza è stato quello di abbattere un loro satellite ormai dismesso che più o meno ruotava diciamo a quella distanza dalla superficie terrestre quindi un esperimento militare e Pellizza si è rifiutato perdendo anche diciamo una quantità enorme di denaro che gli era stato diciamo promesso nel caso in cui lui avesse dato tutte le istruzioni per farla funzionare perché ecco dobbiamo ripetere che la macchina il progetto della macchina si trova ormai in rete possedendo diciamo pazienza cognizioni tecniche e denaro perché un prototipo oggi costerebbe circa 40.000 euro delle fondazioni delle società delle università diciamo possono tranquillamente realizzare però le combinazioni possibili sono milioni per poterla fare funzionare vari cursori che ci sono e il funzionamento è descritto da una serie di formule che soltanto Pellizza ha per cui Pellizza si rifiutò di eseguire l'esperimento militare e lo fece una seconda volta anche col governo belga perché anche il governo belga dopo aver visto che funzionava eccetera eccetera gli chiese di forare la pesante corazza di un calo armato a una certa distanza e così via quindi che cosa succede succede che di fatto l'utilizzo che fa più gola ai vari governi agli entourage diciamo militari industriali eccetera è quello si a scopo diciamo militare quindi di accrescere il potere chiaramente allora singolarmente diciamo gli esseri umani sono idealisti sono tutti buoni eccetera però quando in realtà si parla di governi si parla di interessi estremamente diciamo alti potere economia eccetera ecco direi che non siamo non siamo sicuramente in grado di utilizzare nel modo corretto una una macchina del genere d'altra parte la storia dell'energia nucleare ne stavamo parlando dimostra che anche gli scienziati che si hanno partecipato al progetto manatte ed erano d'accordo sulle bombe di roshiba e nagasaki poi quasi tutti tranne qualche isolato scienziato erano d'accordo sull'utilizzo pacifico per esempio fermi quindi utilizzo di energia nucleare attraverso i reattori nucleari produzione di energia non armi di istruzione ma di fatto questo è stato totalmente disatteso perché dicevo ci sono state circa dopo quelle di roshiba e nagasaki e quella e la trinitri prima nel deserto del new messico circa 2000 esplosioni nucleari di cui quasi tutte sono di potenza superiore spesso anche dalle 1000 alle 2000 alle 4000 volte superiori a quelle della bomba di roshiba la bomba azar per esempio la più potente bomba quella russa diciamo equivaleva a circa 4340 bombe di hiroshima e ha distrutto i vetri delle abitazioni a 900 chilometri di distanza è stata fatta detonare in una zona completamente deserta della Siberia la penisola della Novaya Zemlya e tra l'altro le cene radioattive sono andate così in alto che quindi poi c'è stato un fallout molto piccolo rispetto a quello che ci si aspettava e quindi i venti dell'alta atmosfera hanno distribuito su tutto il pianeta diciamo queste cene radioattive uno dei progettisti di questa bomba che era lo scienziato conosciamo Andrei Sakharov da quel momento smise di collaborare con il governo sovietico e per questo poi venne perseguitato e perché lui aveva calcolato che a causa diciamo di questo questa distribuzione su tutto il pianeta di queste cene radioattive circa 500.000 persone sarebbero morte di cancro e milioni si sarebbero ammalate successivamente queste sono cose che purtroppo se uno se le va a cercare su internet le trova però non vengono insegnate da nessuna parte mentre dovrebbero essere patrimonio diciamo di tutti quindi questo ci fa capire sì gli scienziati volevano utilizzare in modo pacifico l'energia nucleare però i governi l'hanno sempre utilizzata diciamo non c'è stata una terza guerra mondiale però 2000 test nucleari hanno immesso nell'acqua nell'aria nel terreno una quantità enorme di radioattività tra l'altro dobbiamo dire che in tutta questa storia l'America ha avuto un ruolo importante ha giocato un ruolo importante perché dopo la presidenza di Ford ci fu comunque sempre la presenza di Eric Kissinger vicino a questi questi personaggi quindi questo fa capire quanto fosse e quanto è ancora importante questo progetto io invece volevo citare un attimo una frase famosa di Einstein che diceva la scienza non è né buona né cattiva ma è l'uso che si fa della scienza che determina appunto se l'utilizzo che ne farai sarà buono o cattivo quindi questo ovviamente dipende dall'uomo ma come dicevi tu l'umanità non è pronta e molto probabilmente lo stesso Pelizza che non vuole rivelare adesso Pelizza ha 80 anni io qui avrei proprio una parentesi su chi è Pelizza su quando incontra Majorana e che cosa succede perché questa è una parte della storia che abbiamo raccontato l'altra volta ma non lo abbiamo fatto questa sera per chi eventualmente avesse seguito solo questa puntata stesse seguendo solo questa puntata mi sembra doveroso fare proprio un brevissimo riassunto della figura di Pelizza Rolando Pelizza lo facciamo prima del professore Cami o dopo cosa dite? è indifferente andiamo con Pelizza vabbè brevemente allora possiamo farlo anche dopo però perché in effetti lui parla sì perché lui in effetti parla poi anche di Pelizza quindi cosa dici allora facciamolo dopo facciamo questo piccolo stacco dal 7.23 partiamo sì 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 Max adesso ci dà è una intervista lunga che hai fatto tra l'altro durante il Majorana Day il Majorana Day esatto lui è stato tra l'altro carinissimo gentilissimo quindi è un'intervista veramente dove abbiamo parlato a tutto campo di Majorana noi abbiamo estrapolato una parte quella che parla appunto della macchina di Majorana vediamo ecco non lo so perché io la famiglia Majorana l'ho frequentata soprattutto dal 1969 in poi poi dopo ho frequentato soprattutto la cognata non lo sentiamo l'isola di Majorana Luciano e la sorella la sorella altrimenti se tu hai possibilità di controllare magari senza andare in onda noi continuiamo con ad un altro di Majorana sì c'erano i ragazzi che sono cresciuti c'erano fare una sintesi della storia di Pelizza perché questo incontro quando avviene questo incontro che avviene nel 1958 tra l'altro nel 1958 sì esatto e questo incontro in un convento in un convento allora diciamo che Pelizza non ha mai detto finora quale sia questo convento e neanche dove sia ubicato si è supposto che potesse essere nel sud d'Italia e siccome Sciascia aveva in un suo romanzo documento supposto che Majorana si fosse rifugiato nella Certosa di Serra San Bruno provincia di Catanzaro si è pensato anche a questo però non ci sono conferme poi c'è di Stefano che ha fatto osservare che poiché Pelizza abita a Chiari in provincia di Brescia e poiché si è recato parecchie volte insomma questi viaggi dovevano essere estremamente lunghi e adesso non ricordo esattamente lui ha fatto un'osservazione sui tempi di percorrenza che non corrispondono quindi lui ipotizza un convento che si trovi nell'Italia centrale comunque comunque sia lasciamo aperte tutte le ipotesi poi ce n'è una carina che poi vi leggerò che ho trovato recentemente che potrebbe starci dunque allora voglio dircela adesso è un convento di San Gregorio Armeno dove? siamo nel Napoletano perché il professor Carrelli che era il direttore dell'istituto di fisica dove insegnava Majorana si trovava a passeggiare con un suo assistente il professor Tartaglione e passando davanti al convento di San Gregorio Armeno dice questo è il convento dove Majorana sta facendo gli esercizi spirituali e allora Tartaglione rimane e dice il professor sta scherzando mi prende in giro o sta dicendo qualcosa di serio torniamo al lavoro risponde Carrelli no comment quindi riprendiamo allora Pelizza che comunque incontra Majorana in un convento non viene identificato Pelizza è la famiglia di Pelizza una famiglia di imprenditori nel settore delle calzature e quindi loro erano i fornitori delle calzature dei conventi italiani per cui lui aveva una commessa e quindi si doveva recare in questo convento qui è ventenne Pelizza quando arriva lì e si trova ad un certo punto un monaco sembrava che lo avvicina e gli pone un quesito aritmetico perché è più diciamo la cosa importante di dire aritmetico perché a quanto pare che matematico potrebbe essere un quesito di alta matematica e diciamo si suppone che la persona in questione abbia delle conoscenze matematiche invece evidentemente il monaco voleva assaggiare non tanto le conoscenze ma le capacità ricordiamo che Ettore Majorana a quattro anni eseguiva moltiplicazioni di due numeri di tre cifre tre cifre per tre cifre a quattro anni in pochi secondi dava la risposta o eseguiva a mente a quell'età anche radici quadrate e cubiche però non quelle semplici se no radice di 25 vale 5 radice che ne so di 127 non quadrati perfetti o cubi perfetti quindi numeri con la virgola a quattro anni quindi aveva era estremamente dotato probabilmente voleva assaggiare le capacità aritmetiche perché se ci sono alte capacità aritmetiche poi studiando si riesce molto bene e dice dice al giovane probabilmente lo faceva con tutti questo monaco che poi si rivelerà essere Ettore Majorana quando torna alla prossima commessa se ci riesce mi dà la soluzione invece a quanto pare Pellizza si mette in un angolino e lo risolve e questo è che fa scattare diciamo la molla perché il monaco si interessa al giovane perché evidentemente ecco riconosce probabilmente qualcosa di sé ci voleva qualcosa del genere per potere lui cercava la persona adatta una persona una certa affinità insomma una certa affinità di capacità diciamo matematiche molto numeriche molto diciamo spiccate e poi doveva essere un imprenditore perché abbiamo visto che oggi un prototipo costerebbe 40.000 euro comunque rapportati diciamo alla lira comunque era sempre una notevole spesa teniamo conto che poi quando Pellizza inizierà dovrà costruire più di 250 prototipi che andranno distrutti perché non funzionavano implodevano quindi facendo in euro 250 per 40.000 25 per 4 fa 100 gli aggiungiamo altri 5.0 vediamo quello che ha speso è un miliardino noi ci fermiamo un attimino qui allora se Bax è pronto vediamo allora di far partire l'intervista del professore Erasmo Recami è un fisico che ha conosciuto tra l'altro non lo so perché io la famiglia Maiorana l'ho frequentata soprattutto dal 1969 in poi poi dopo ho frequentato soprattutto la cognata Nulli Cerino vedova di Maiorana Luciano e la sorella la sorella donna meravigliosa molto colta Maria e di molti altri di Maiorana sì c'erano i ragazzi che sono cresciuti uno si chiama Fabio sta e sono in contatto sta ancora a Catania e sull'Etna e poi recentemente ho conosciuto Salvatore Maiorana però lui il tempo non c'era certo e non sa queste cose e invece della storia di Pellizza di questo incontro che Pellizza dice e della Magna non ho mai parlato con tutti questi Maiorana della storia di Pellizza perché la storia di Pellizza l'ho conosciuta solo negli ultimi anni quando Rolando è venuto ha cominciato a venermi a trovare gentilmente a casa a raccontarmi le cose mi ha fatto una decina di visite però con i Maiorana non ero più in contatto grande con pochi ma lei cosa ne pensa di quello si parla anche di una macchina sì sì beh io credo alla macchina credo perché ci sono anche testimonianze di Clementel che era allora presidente del CNEN eccetera eccetera e poi ho sentito molte testimonianze e io credo che la macchina esista però non sono sicuro che dietro dietro la macchina se esiste ci deve essere un genio eccezionale però non mi convincono le lettere di Ettore Maiorana anche scritte a me a 70 60 anni 90 anni perché lo stile non è quello suo lui era il grande inquisitore nel gruppo di di fermi insomma non mi sembra ecco quindi la calligrafia è la sua non ho bisogno che lo dicano i feriti perché io ho 50 anni che ho sotto mano la calligrafia dietro e credo di intendermi io più di tutti però il contenuto no e allora non mi pronuncio non dico nè sì nè no tornando invece a questo discorso della macchina ipotizzando appunto che possa esistere e funzionare ma a che cosa servirebbe questa no questa macchina da quello che dicono fa cose incredibili potrebbe servire per esempio per risolvere il problema dell'ozono per trasformare le scorie nucleari e radioattive in elementi innocui potrebbe a parte il fatto che può trasformare qualsiasi oggetti nuovo qualsiasi oggetto in un materiale diverso poi dicono addirittura che Ettore a un certo punto ha usato una macchina per ingiovanire all'età di 25 anni quindi questo è difficile da credere però io non mi pronuncio comunque questa macchina se usata fin di bene potrebbe essere molto ma lei che è un fisico non ha mai avuto la curiosità di dire voglio andare a vedere se esiste e che cosa fa basata su una fisica che non è quella che noi conosciamo quindi non possiamo dire che non è valida come ci sono molti non la conosciamo e basta la curiosità e lei non ce l'ha di approfondire ma è basata su una fisica che noi non conosciamo esatto ma lei non ha mai sentito la curiosità di avvicinarsi a questa ma sono cose troppo diverse da quelle che si sa non è che basta un piccolo aumento del 10% di cambiare di 10 volte la mentalità è tutto io non ho basi ho delle varie intuizioni ma non ho basi per capire come funzioni un'ultima domanda qual è secondo lei l'eredità scientifica che ha lasciato Majorana beh allora io direi che anche soltanto riferendosi all'ultimissimo articolo che ha pubblicato nel 1937 lui ha ha fatto capire all'umanità se ne sono accorti adesso dopo 80 anni lo considerano tutti un genio eccezionale ora negli Stati Uniti in Russia soprattutto ha fatto capire che oltre alle particelle di Dirac particella con antiparticella possono esistere quelli che ora si chiamano fermioni di Majorana oggetti che coincidevano con la propria antiparticella questi oggetti sono straordinariamente importanti perché raddoppiano la ricchezza della fisica fondamentale e poi servono per fare il compito quantistico quindi dopo 80 anni si sono accorti che quegli oggetti di Majorana sono essenziali per fabbricare il computer quantistico che ora forse avranno modo di andare avanti finora tentavano molto a non realizzarlo poi come ho accettato anche al fatto che in quello stesso articolo ha introdotto delle algebre nuove che sono importanti perché servono per fare studi che prima non si potevano fare quindi anche solo con questo articolo ha fatto cose straordinarie grazie grazie molto gentile è stato devo dire gentilissimo il professore Erasmo Recami lo ringraziamo ancora adesso lui ha parlato di questa nuova fisica una concezione completamente diversa tanto che lui stesso che è davvero un bravo fisico dice io ho qualche varia intuizione ma non ho le basi cosa puoi dirci tu Adolfo di questa nuova fisica allora io diciamo meno del professore Recami da questo punto di vista sono meno preparato quello che posso dire è questo che continuando visto che ci trovavamo a raccontare la storia di Pellizza Majorana adotta Pellizza come studente adesso non sappiamo scorsi per corrispondenza poi si incontravano quindi gli insegna in sei anni dal 58 al 64 questa nuova fisica e la matematica nuova attraverso cui può essere espressa perché ogni fenomeno fisico nuovo necessita una formulazione matematica altrettanto nuova quindi dopodiché lo promuove a pieni voti c'è una lettera del 64 in cui glielo dice ti promuovo a pieni voti queste lettere sono pubblicate dove queste lettere sono pubblicate nel libro che abbiamo citato il segreto di Majorana che abbiamo fatto vedere poco fa ci sono le lettere ci sono le fotocopie anastatiche con la scrittura di Majorana che diciamo il professore Cami ha riconosciuto ha detto non ho dubbi che la calligrafia è quella poi c'è anche una perizia si vi tiro tra poco poi lo ascolteremo anche esatto c'è una perizia della dottoressa in questo momento Chantal Chantal il tribunale di Pavia quindi è una persona che fa perizie grafiche per conto diciamo della magistratura quindi sicuramente non una persona non una grafologa e che dà diciamo nel confronto con le lettere di sicure attribuzioni di Majorana prima della scomparsa la Chantal dice che al 100% le lettere successive al 64% sono sicuramente al 100% della stessa mano che ha scritto quelle di sicure attribuzioni cioè è sempre Majorana che scrive e questo è un fatto diciamo notevole che appunto anche nella prefazione del libro il professor Recami dice cioè è importante il fatto per me è importante che ci sia stata una perizia di un tribunale che attribuisce le lettere sicuramente a Majorana lo voglio leggere la calligrafia sembra proprio quella del Majorana antes comparsa a me notissima del 1970 quando iniziai il mio studio delle carte relative al caso Majorana più importante per me che la calligrafia delle lettere che appaiono per la prima volta in questo libro sia stata dichiarata da un perito di tribunale come dovuta alla stessa mano che redasse gli antichi scritti sicuramente di Ettore Majorana quindi lui questo lo dice per quanto riguarda lo stile contenuto delle lettere mi sembra diverso dallo stile di Majorana che conosco io però in un'altra intervista aggiunge tuttavia col passare degli anni si cambia quindi non lo escludo certo e quindi tornando adesso sul filo diciamo del discorso stavamo dicendo che adesso ho perso un attimo abbiamo perso il filo abbiamo fatto abbiamo perso circa tre discorsi che non abbiamo chiuso c'era una domanda ecco che era interessante alla quale gli stavo rispondendo io però direi adesso se ascoltiamo Vitiello visto che stiamo parlando delle perizie perché almeno abbiamo la possibilità di ricollegarci parliamo sostanzialmente dell'ingegnere Michele Vitiello lui è un perito forense e ha periziato le foto di Ettore Majorana dopo le facciamo vedere sì esatto mi sono ricordato la fisica ok volevo dire un'ultima cosa ma infatti poi la riprendiamo dopo visto che abbiamo parlato delle perizie io ne approfitterei ora quindi lui ha avuto questo incarico da parte di chi Vitiello ha avuto l'incarico da Alfredo Ravelli da Alfredo Ravelli che poi è l'autore anche dei libri che abbiamo citato poco fa il segreto di Majorana è il primo della trilogia poi ci sono il secondo il secondo il primo è il dito di Dio in cui ancora non aveva avuto l'autorizzazione a dire che l'autore della macchina fosse Ettore Majorana se non sbaglio nel secondo lo dice nel segreto di Majorana poi arriviamo con l'ultimo se lo possiamo inquadrare Max lo facciamo vedere che 2006 e con le ultime lettere di Ettore Majorana che sono poi quelle che sono state periziate e poi con le foto queste foto sono strane perché ritraggono anche un Ettore Majorana giovane e qui oltre a ritornare sul discorso della nuova fisica Adolfo parliamo anche di quello che ha in qualche modo accennato il professor Ricami sul fatto che questa macchina consentirebbe anche di ringiovanire ma andiamo l'azione della materia nello spazio-tempo sia nello spazio che nel tempo andiamo per ordine quindi sentiamo l'ingegner Vitiello il perito forense proprio sulla perizia che vi ha fatto sulle foto di Majorana delle fotografie dove si vede Ettore Majorana con Felizza che è questo commerciante che lo avrebbe visto a lungo lo facciamo ripartire dall'inizio lo facciamo ripartire un attimo è una bella testimonianza quella dell'ingegner Vitiello che tra l'altro è stato molto disponibile sia al Majorana Day che anche in altre occasioni dopodiché vedremo anche le foto che lui ha periziato e poi quando ci sarà la possibilità una cosa abbastanza interessante è un video che tra l'altro è in chiaro su Youtube dove si vede Rolando Felizza assieme ad un Majorano ultra novantenne un po' claudicante ma poi lo vedremo anche questo video ultra novantenne che però non sembra un ultra novantenne tra quanti anni più o meno ma tra i 30 25 no tra i 30 e i 40 tra i 30 e i 40 molto giovane quello diciamo dei 25 un'altra immagine che però non è così insomma non è stata periziata quindi siamo pronti quindi l'ingegnere Bitello e il perizio Forensi che ha periziato lei ha periziato delle fotografie dove si vede Ettore Majorana con Pelizza che è questo commerciante che lo avrebbe visto a lungo che cosa quindi intanto perché lo ha fatto perché ovviamente lei fa questo di mestiere sì esatto allora io sono un ingegnere delle telecomunicazioni lavoro per diverse procure della Repubblica dei Tribunali d'Italia mi occupo generalmente di perizie informatiche di perizie su video audio vari file multimediali in questo caso come dicevo poc'anzi qui durante proprio il mio intervento io conoscevo quasi nulla praticamente della storia di Ettore Majorana un bel giorno fui contattato da Rolando Pelizza che mi chiese di effettuare una comparazione fotografica perché proprio nell'ambito della mia attività ma nulla mi spiegò di questa storia e neanche onestamente mi interessava da un certo punto di vista perché per me era un lavoro come un altro di una classica consulenza tecnica di comparazione fotografica antropometrica tra dei soggetti mi diete delle fotografie e alcune di queste provenivano dal professore Cami che erano le foto originali di Ettore Majorana del 1938 che erano corrispondenti all'ultimo periodo in cui di lui si sapeva non fosse ancora scomparso e poi mi diete tre fotografie che erano dell'anno 1976 86 e 1996 dove c'era da fare questa comparazione e verificare se il soggetto che veniva ritratto in queste foto fosse corrispondente o meno e con quanto rispetto a Ettore Majorana e qual è stato il risultato? Il risultato è stato che effettivamente c'era una corrispondenza molto molto elevata sono state fatte delle attività di tipo fisionomico e di tipo scientifico o metrico facendo delle misurazioni delle comparazioni di tutte le parti del viso di questi due soggetti sia con delle tecniche proprio visive di tipo fisionomico guardando la forma delle orecchie del naso del mento della bocca sia con un sistema metrico con delle triangolazioni con dei metodi scientifici ed è si è evidenziato una comparazione piuttosto elevata della somiglianza molto forte di questi due soggetti quindi a mio avviso molto molto elevata la probabilità che si trattasse effettivamente di Ettore Majorana quindi che si trattasse ma qui stiamo parlando di fotografie fatte a dieci anni di distanza l'una dall'altra ha detto 76 86 96 dove c'è un Majorana decisamente giovane che in quel periodo avrebbe dovuto già avere una bella età esatto quindi Adolfo io direi riprendiamo un po' il discorso della nuova fisica e lo leghiamo anche a questo aspetto che è stato anche citato da professore Cami sul ringiovanimento sì allora rispondendo a questa domanda chiudo anche la prima e poi la possiamo anche approfondire ecco qua vediamo intanto delle immagini perché segue la diretta Facebook vediamo Pelizza con un Majorana giovanissimo Pelizza ha qui 58 anni e Majorana dovrebbe averne 90 sì ecco esatto quindi dato Rolando è rimasto così come lo vediamo lì è uguale ha 80 anni adesso a Rolando quindi può darsi di si sia fermato l'invecchiamento e ho riportato a male prima oppure li porta bene adesso io saluto tanto Rolando se ci sta ascoltando buonasera signor Pelizza buonasera se ci sta seguendo persona simpaticissima qui quindi c'è una slow motion che si vede bene e qui siamo all'interno di questo luogo protetto del sud Italia diciamo pure del sud Italia quasi certo anche l'amico Rino di Stefano ha avanzato nelle sue ricerche questa teoria quindi siamo certamente in un luogo caldo in un luogo con queste palme non siamo all'estero siamo in Italia anche se comunque le hanno messe in piazza d'uomo a Milano tu dici che hanno fatto un photoshop era una battuta tanto insomma per stemperare un po' ok quindi riprendiamo riprendiamo allora dico subito quali sono le quattro fasi della macchina finora ho parlato più approfonditamente dell'anniglimento controllato della materia adesso cito proprio leggo la lettera di Majorana del 26 febbraio 1964 a Rolando Pellizza e dice come ben sai la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi prima fase anniglimento controllato della materia seconda rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi terzo trasmutazione della materia quarto traslazione della materia intesa nello spazio tempo e questo si riferisce a questo allora si parla di un esperimento in cui una rosa passita viene messa all'interno della macchina in un certo modo la macchina non l'ho vista quindi non so come però va inserita all'interno della macchina e la rosa ritorna bocciolo diciamo quasi ecco allora non è un trasferimento di energia vitale diciamo così tra virgolette quindi nulla di parapsicologico ma semplicemente è tornata indietro il tempo quindi è tornata come era prima come era all'inizio qualcosa ecco questo naturalmente tutto ciò è ancora più incredibile potrebbe stare magari giusto per ingiovanire di qualche decennio adesso si potrebbe suggerire che in qualche modo la Majorana abbia utilizzato su di sé la macchina però questo non viene detto in realtà da nessuna parte c'è da dire Pellizza non lo dice quindi su questo perché la Majorana ha progettato la macchina ha scoperto la fisica che sta dietro e poi soprattutto per impedire il disastro ecologico del pianeta esatto ha progettato questa macchina l'ha realizzata Pellizza che poi Majorana abbia avuto un prototipo non si sa Pellizza non lo dice perché bisogna avere sotto mano un prototipo poi teniamo conto che la macchina è più piccola della statura di un uomo quindi come si possa fare su questo c'è grande punto interrogativo quindi su questo Pellizza non dice niente non sappiamo non sappiamo però ecco la fisica che sta dietro è chiaramente al di fuori diciamo centinaia di anni sembrerebbe più amanti della nostra però c'è un punto Cammie parlava proprio di una fisica completamente diversa tu ritieni che sia un'evoluzione dell'attuale fisica che ancora noi non conosciamo certo come prendiamo un contemporaneo di Aristotele per lui la fisica di Newton già è impensabile prendiamo un contemporaneo di Newton per lui la fisica di Einstein è totalmente impensabile quindi anche per i contemporanei di Einstein in effetti è stato per lungo tempo impensabile e quindi però ricordiamo che Einstein lui ringraziava sempre i suoi predecessori perché diceva che senza tutto lo studio e le scoperte che erano state fatte in precedenza lui non sarebbe arrivato a questo perché sembra che la natura è estremamente complessa c'è Tullio Regge che dice che secondo lui non si arriverà mai a scoprire un punto finale diciamo per lui c'è una complessità infinita quindi l'universo è non solo probabilmente infinito nello spazio nel tempo ma è infinito anche da un punto di vista diciamo logico di complessità per cui ci si può si sbroglia sempre di più la matassa ma non si arriva mai al fondo è come se ci fossero tanti tasselli che una volta esatto allora la scienza abbiamo visto che funziona in questo modo si arriva a un certo punto a una certa teoria la teoria è soltanto una buona interpretazione dei fatti che funzionano e che permette di prevedere nuovi fatti e anche delle applicazioni funzionanti però abbiamo sempre un limite ogni teoria fisica è basata sulle misure sugli esperimenti ora la precisione delle misure presuppone sempre un certo livello tecnologico man mano che la tecnica diventa sempre più diciamo approfondita specializzata eccetera e quindi procede peraltro insieme alla scienza si è in grado di apprezzare delle misurazioni che per esempio per fare l'esempio di Einstein non si potevano apprezzare ai tempi di Newton quindi ai tempi di Newton la somma di due velocità si otteneva cioè una macchina va a 5 km all'ora cammina diciamo su un facciamo su un nastro trasportatore che va a 10 km all'ora la velocità totale rispetto al suolo è 15 10 più 5 ma in realtà non è così perché se uno avesse la possibilità di misurare fino al miliardesimo di seconda eccetera vedrebbe che non è esattamente 15 km è un po' di meno quando la fisica giunge a poter misurare o intervalli di tempo così piccoli oppure si misura con fenomeni in cui si ha a che fare con velocità enormi questi effetti si notano allora si deve correggere la teoria di Newton per cui la teoria di Newton funzionava nei limiti delle misure delle capacità di misura di quei tempi però se uno avesse avuto la possibilità sin da allora di osservare non so degli extraterrestri che ti dicono non mi sopra meglio con questo eccetera già allora ci si sarebbe accorti che non andava bene allora c'è voluto ci sono voluti tre secoli di accumulo di dati di fenomeni fisici fino ad arrivare alle leggi di Maxwell eccetera per cui poi a un certo punto Einstein si rende conto che c'è qualcosa che non quadra le leggi di Maxwell non sono compatibili con quelle di Newton perché se si va alla velocità della luce o è sbagliato Newton o è sbagliato Maxwell però lui dice no Maxwell è stato tutto sommato più come dire sperimentato di Newton quindi evidentemente dobbiamo pensare che lo spazio se la velocità della luce è costante dobbiamo pensare che invece sono lo spazio il tempo che si dilata il tempo si dilata lo spazio si contrae insomma però l'ha fatto sulle spalle dei predecessori tra altri 300 anni oppure prima si accumuleranno talmente tanti dati che si potrà fare un ulteriore salto io mi auguro di sì però che duri ancora un po' però possiamo far vedere qualche fotografia se Max ce le riesce a inquadrare sempre tratti dal libro di Alfredo Ravelli nel 2006 Majorana era ancora vivo quello che stiamo facendo vedere queste sono le fotografie che l'ingegner Vitiello ha periziato la fotografia di Majorana nel 1958 in alto nel 64 quella sottostante e poi qui vediamo la fotografia di Ettore Majorana nel 76 a metà nell'86 e qui la famosa compilizza nel 96 in compagnia di appunto Rolando e abbiamo sentito prima qual è stato il risultato di questa perizia abbiamo un altro contributo da passare Laura prima volevo chiudere siccome abbiamo appunto hai parlato del discorso che quando un nuovo scienziato comunque quando si procede è difficile per le scoperte magari attuali queste scoperte non sono immaginabili o concepibili dagli scienziati che hanno preceduto ecco quindi mi viene dei salti dei salti mi viene spontanea questa domanda quindi secondo cioè è come se le nostre scoperte vanno magari di pari passo con il grado di evoluzione anche in termini di pensiero e di apertura mentale delle persone mi spiego meglio c'è una forma mentis che può interferire anche con le scoperte innovative tecnologiche Einstein diceva che la forma mentis che interferisce è il senso comune cioè dire il senso comune è quell'insieme diceva lui di pregiudizi che si formano nei primi anni di vita dovute tra l'altro al nostro contatto diciamo con la realtà e con gli oggetti della realtà che noi sperimentiamo soltanto se vogliamo in una forma newtoniana con basse velocità quindi con tempi diciamo non piccolissimi insomma noi praticamente il mondo delle cose solide che sperimentiamo da bambini ci condiziona poi da adulti quindi ci vuole un processo di affinamento che avviene attraverso lo studio se uno studia fisica comincia a rendersi conto che ciò che si vede non è ciò che è che la realtà è ben diversa e ben più complicata rispetto a quello che diciamo noi crediamo che sia per cui ecco la grandezza della scienza è quella di riuscire a spaccare se vogliamo questi pregiudizi consolidati che si formano necessariamente nei primi anni di vita quando noi sperimentiamo il mondo in un certo modo quello direi newtoniano e poi invece ci rendiamo conto studiando e facendo tutta una serie di esperimenti un certo excurso sulle spalle di quelli che ci hanno preceduto che le cose sono diverse allora lì si può fare un salto ulteriore però è un allenamento abbastanza duro ma non so se è per tutti però questo salto mi piace non ti voglio contraddire ma ti voglio anzi sottolineare l'importanza di quello che hai detto non tutti gli scienziati e questo l'abbiamo sentito mi ricordo in un nell'ultimo intervento di un ricercatore durante il congresso di salute scienza dove proprio in una delle più grandi ricerche a livello mondiale nel settore oncologico purtroppo la forma mentis che arriva dalla tenera età condiziona delle masse intere in tutto il globo e quindi questo è molto significativo quindi questi personaggi questi scienziati che escono con la voce fuori dal coro sono quelli che fanno la differenza senza nulla togliere non me ne vogliono i ricercatori però c'è questa difficoltà ad uscire da un certo recinto ma infatti avevo dei dubbi se fare questa domanda ma mi sembra che era proprio assolutamente pertinente mi sembra che Erasmus ricercami sia uno di quelli scienziati che va oltre la forma mentis l'avere immaginato particelle più veloci della luce e quindi un mondo cosiddetto super luminale per quel poco che so lui immagina un mondo sub luminale in cui le particelle dotate di massa possono andare solo a velocità inferiori a quelle della luce poi c'è il mondo delle particelle prive di massa come i fotoni che possono andare solo alla velocità della luce e lui in un riadattamento della teoria della relatività di Einstein immagina un mondo super luminale di particelle che possono andare solo a velocità superiori a quelle della luce siccome in greco tachius significa veloce tachioni credo di avere interpretato grandi linee ecco il suo modello tanto spazio sul nostro sito c'è l'opzione delle rubriche proprio che ci ha autorizzato il professore Cami a pubblicare con dei suoi lavori dei suoi studi dalla fisica greca ad oggi arrivando fino alle particelle super luminali che lui aveva teorizzato all'inizio degli anni 70 domanda Majorana potrebbe essere morto come spirito testa e non come corpo mi spiego meglio trovando un sistema che ringiovanisce il corpo e non la mente la mente o lo spirito potrebbe non avere sopportato l'alterazione delle cellule o potrebbe essere ancora vivo ma con un aspetto diverso diciamo è una domanda non sono in grado di rispondere di rispondere perché poi magari vorrei provare io a dare una risposta un dubbio un dubbio prima sentiamo un attimo un dubbio che abbiamo avuto io e altri amici con i quali poi abbiamo condiviso il contenuto di questo libro è questo ma se la macchina nel quarto livello trasla la materia nello spazio-tempo e quindi la rosa appassita torna a bocciolo perché torna indietro nel tempo cosa ne è della mente perché se la mia mente è arrivata a diciamo concepire tutta una serie di scoperte e se poi torno indietro quindi divento più giovane torno indietro anche con la mia mente e quindi torno indietro con una mente ancora come dire non sapiente come quella di adesso è questa questa è la domanda che ci siamo fatti alla quale non abbiamo saputo rispondere ora Bellizza non dice nulla sulla apparente giovinezza di Ettore Majorana e quindi non dice ha usato non ha usato la macchina non dice nulla però sembrerebbe che comunque dalle lettere Majorana se sia pur più giovane di corpo abbia la stessa mente a questo punto si parla di non località no beh allora sì la mente non locale che comunque è collegata con il nostro corpo quindi non possiamo pensare al corpo poi disgiunto dalla mente che va in parallelo quindi se noi parliamo di olismo la visione olistica dell'uomo io penso ed è una mia opinione perché ovviamente qui nessuno ha la verità in tasca però io penso che il corpo e la mente possono viaggiare o traslare nello spazio-tempo restando comunque connessi e collegati quindi io non penso ad un Majorana con un corpo giovane però con una mente che magari è diversa oppure una mente che non è più quella che era prima tra l'altro adesso io qui sento il presidente perché abbiamo un esperimento che è stato fatto sempre con la traslazione dello spazio-tempo su un soggetto comunque su un essere il quale aveva una certa età quando poi ha fatto questo passaggio nella traslazione dello spazio-tempo è ritornato ma ha mantenuto la memoria di quando era più anziano quindi se vero è questo esperimento mi viene da dire che la risposta è che comunque non perdiamo le memorie non perdiamo le memorie quindi c'è stato un ringiovenimento diciamo a livello proprio biologico ma la memoria passata le conoscenze le conoscenze vissuta in uno spazio temporale di un soggetto vivente diciamo non posso dire non è una persona questo soggetto vivente è un animale e questo naturalmente la dice lunga perché l'animale che è stato sottoposto a questo esperimento ha mantenuto quello che era la memoria dell'animale anziano con le abitudini e tutto e la conoscenza anche perché lui è tornato ma riconosceva tutti ed era tutto come prima era il famoso cagnolino noi siamo in conclusione quindi già sono già le 10 quindi a questo punto noi dobbiamo tirare un po' le fila del discorso c'era il contributo di Alessandrini però diciamo che ribadisce un po' i concetti forse potremmo utilizzarlo come chiusura perché ci ricolleghiamo così anche al collegamento che abbiamo voluto fare questa sera tra l'aspetto ecologico e la macchina di Pelizza Maiorano sì ecco le prime tre fasi riguardano l'aspetto ecologico se allora se posso annichilire la materia quindi posso diciamo generare atomi di antimateria che unendosi a quelli di materia diventano diciamo pure energia fotoni quindi scompare la materia per esempio uno degli utilizzi che nel libro Pelizza e Maiorana suggeriscono è quello diciamo della distruzione dei rifiuti poi di quelli dei rifiuti radioattivi quindi le scorie radioattive delle centrali nucleari come ha detto il professore Recami quindi questo per esempio invece la la produzione di energia attraverso il rallentamento dello spin della materia non produce assolutamente anidite carbonica è un'energia la macchina ha bisogno di soltanto se non sbaglio 4 watt di 4 volte di 4,5 volte per funzionare produce una quantità diciamo di energia notevole ci sono stati degli esperimenti in cui ha cercato di riscaldare l'acqua di una piscina e così via quindi questa sarebbe la soluzione ai problemi energetici che noi abbiamo meglio delle centrali nucleari perché producono scorie radioattive poi le centrali nucleari a fusione non ci sono ancora si parla di una tecnologia che è sempre di là da venire però non si arriva mai e tutte le altre forme di energie alternative sono comunque coprono diciamo sempre il 10-20% massimo del fabbisogno energetico mondiale quindi questa sarebbe diciamo l'ideale la trasmutazione della materia ugualmente anche questo la trasmutazione della materia avviene regolarmente per esempio nel sole e nelle altre stelle però a temperature altissime noi abbiamo visto una cosa molto controversa la cosiddetta fusione fredda adesso la chiamano l'ENR quindi light energy nuclear reactions reazioni nucleari a bassa energia e in qualche modo evidentemente la macchina di Majorana che cambia diciamo gli atomi di trasmuta trasmuta che ne so un atomo di piombo in un atomo di oro eccetera evidentemente lavora in questo campo è chiaro che se io ho la necessità per esempio di liberarmi della nitrite carbonica in eccesso posso utilizzare questo effetto di trasmutazione per poter trasformare per esempio gli atomi di carbonio della CO2 in un altro tipo di atomi quindi queste prime tre fasi sono le fasi diciamo che possono avere un forte potente diciamo una potente rigatura dal punto di vista ecologico e sembra che Majorana abbia diciamo progettato la macchina in questo senso ha scoperto una nuova fisica e quindi la fisica è diciamo pensiero puro significa capire qualcosa di più dell'universo però anche delle applicazioni quindi ha pensato a questo tipo di applicazioni possiamo consigliare anche qualche libro ancora una domanda vista la recente confessione dell'ex presidente della NASA sull'esistenza aliena Majorana potrebbe avere ricevuto queste informazioni da mente aliena quindi il funzionamento della macchina sarebbe comprensibile ad una mente non umana Adolfo non interviene no per me ognuno dica la sua io posso posso pensare che il nostro amico ascoltatore abbia affrontato un argomento interessante che non è più così tanto di confine questo argomento proprio perché negli ultimi giorni si vedono siamo bombardati e anche perché è così diciamocelo proprio fuori dei denti anche la televisione ha espressamente detto che non siamo soli l'ha detto la television l'ha detto questo questo signore che stiamo vedendo adesso che il nostro mentore che è Nikola Tesla era probabilmente anche lui in un contatto con qualche entità superiore non stiamo a parlare adesso non voglio ridicolizzare la cosa ma voglio in forma molto semplice dire proprio che stanno uscendo queste notizie e questi grandi personaggi questi grandi scienziati anche quelli del passato potrebbero aver avuto delle ispirazioni da una forma spirituale una forma energetica anche di un punto zero sperduto dell'universo e anche questo è notizia certa ormai di questo che gli stiamo dicendo e quindi Majorana non è escluso che e poi se posso dire penso che in un qualcuno dei libri scritti da Alfredo Ravelli che appunto è biografo di Rolando Pelizza si parla di un'entità si parla di un'entità non ben identificata ma e quindi un'entità che forse ha uno spirito guida passato così degli incipit dei messaggi idee e mi viene in mente tra l'altro la storia del grade matematico Ramanujan e lui appunto diceva quando gli chiedevano ma come fai a sapere tutte queste cose e lui diceva che durante la notte la dea gliele metteva sulle labbra tu hai un'ipotesi ma diciamo io una cosa allora come dire rivendico la capacità umana degli uomini della terra di creare e quindi perché tutte le cose grandi che abbiamo fatto nel corso della storia dobbiamo sempre attribuirle a un'intelligenza diversa dalla nostra io penso che Majorana attraverso la sua propria intelligenza è arrivato diciamo a questi vertici non diciamo sono un po' campanilista non gettiamoci giù diciamo ecco siamo esseri come dire umani e il fatto di essere di avere queste caratteristiche non come dire non ci pone al di sotto sicuramente nell'universo ci sono tantissime altre forme di vita e anche delle civiltà intelligenti può darsi che alcune di queste siano giunte da noi ma io rivendico il fatto che noi terrestri se abbiamo una natura spirituale diciamo così ce l'abbiamo esattamente come ce l'hanno tutte le forme di vita dell'universo perché siamo parti dell'universo anche noi qualunque cosa voglia dire la parola spirituale quindi noi condividiamo con altre creature la stessa diciamo matrice di cui è fatta l'universo quindi siamo capaci di prestazioni altrettanto alte quelli sono soltanto un po' più avanti sono civiltà che magari hanno non so 10 milioni di anni più di noi e si sono arrivati prima perché sono partiti prima però ecco stiamo venendo dei bei contributi video che Max ci sta facendo vedere che sono anche questi famosi rotoli del marmotto quindi io direi di arrivare alla connessione abbiamo due minuti all'ora di Alessandrini perché così insomma questo che avevamo comunque annunciato il suo contributo lo mandiamo in onda anche se comunque abbiamo già parlato degli stessi argomenti di cui tra poco lui ci parlerà quindi possiamo ricordare un attimo i famosi libri la trilogia il dito di dio che è il primo di Alfredo Ravelli il segreto di Majorana due uomini e una macchina e 2006 Majorana era vivo e poi mi posso permettergli di dire date un'occhiata anche a questo che è benissimo Leonardo Sciascia sulla scomparsa di Majorana dove lui sei d'accordo su queste intanto è scritto in maniera egregia ci sono delle parti che sono veramente eccezionali ma poi ricordiamo lui parla di un convento sì quello di Serra San Bruno esatto che è una certosa una certosa dove tra l'altro quando Papa Goiti l'andò per una visita il priore gli disse che lì aveva vissuto Majorana quindi l'ha detto al Papa due papi tra l'altro hanno frequentato questo luogo che non è poco ecco lì il titolo 2006 era vivo era vivo adesso noi lanciamo la domanda ma sarà ancora vivo 2019 nel 2019 nel 2006 aveva 100 anni ed è pensabile nel 2019 avrebbe 113 ma è impensabile secondo la nostra fisica conosciuta finora secondo quella lasciamo gli ascoltatori un po' e anche noi stessi con questo dubbio questa questa particolarità questo dubbio comunque ascoltiamo Alessandrini ascoltiamo allora l'ingegnere Francesco Alessandrini ci può dare la macchina di Majorana ecco vedete noi abbiamo una grande presenza di CO2 attualmente l'atmosfera e abbiamo un ozono che si sta riducendo uno schermo di ozono che si sta riducendo la macchina di Majorana fra le altre cose che può fare è quella di trasformare la materia in termini tecnici parliamo di trasmutazione ovvero metta che dove c'è l'ozono c'è una mancanza di ozono ci sia anche presenza di ossigeno o di anidride carbonica stessa con un particolare segnale emesso da questa macchina questa stessa anidride carbonica può essere trasmutata cambiata in ozono per cui grazie a questo potremmo ricreare lo stato di ozono che attualmente si sta assottigliando oppure dove c'è troppa anidride carbonica potremmo pensare di trasformare quest'anidride carbonica in semplice ossigeno o in aria composta da più elementi gassosi tipo un po' di azoto un po' di ossigeno e via dicendo per cui è una macchina che grazie all'effetto di cambiamento della materia potrebbe risolvere questo gravissimo problema a vita è solo una teoria o è già realtà dai discorsi che ho fatto con Rolando la possibilità c'è per cui non è teorica più è stata non dico sperimentata attualmente nell'atmosfera ma senz'altro sperimentata nell'effetto di trasmutazione per cui direi che non è più una sola teoria è una realtà fisica ben nota l'unico problema è che è una realtà fisica nascosta delle strumentazioni nascoste che qualcuno sta decidendo di non utilizzare non si sa bene per che motivo ma secondo lei quando potrà venire alla luce? se non viene se la macchina non viene utilizzata nel giro di uno di un anno dico io penso che sarà troppo tarde ci auguriamo allora che questi poteri forti che attualmente molto probabilmente non consentono di far uscire questa nuova tecnologia possano rivedersi io ho la speranza che comincino a convincersi che devono utilizzarla grazie bene allora con questa intervista a Francesco Alessandrini terminiamo se c'è eventualmente Adolfo che vuole aggiungere qualcosina giusto per tirare ma così le fila ecco le fila mi sono ricordato ecco una cosa nel libro di Pellizza a un certo punto Majorana dice a Rolando il motivo per cui è andato è sparito tra l'altro non è diventato Monaco ecco volevo all'inizio quando è stato avvicinato diciamo era probabilmente nelle vesti di Monaco comunque stava in questo convento non da Monaco si è ritirato in un convento perché aveva iniziato a fare delle scoperte sulla materia condensata insomma sulla statistica della materia che sono quelle che poi hanno aperto la strada a questa nuova fisica e si è reso conto ma si era già reso conto prima che non sarebbe stato diciamo seguito e ascoltato dagli altri e sarebbe stato anzi disturbato nel suo diciamo nel suo cammino tra l'altro lui una frase che Majorano ha detto non sappiamo esattamente a cosa si riferisca lui disse ebbe a dire negli anni 30 che la fisica si trovava su una strada sbagliata qualcuno ha interpretato come la strada che porta alla bomba nucleare qualcun altro invece dice no si trova su una strada sbagliata proprio dal punto di vista teorico comunque lui dice a Rolando io ho cercato una via diversa una via che produce energia senza violentare la materia quindi io legherei la fisica si trova su una strada sbagliata proprio a questa a questa seconda frase poi lui dice a Rolando Pellizza bene grazie sì possiamo è l'ultima puntata quindi Laura e il detto vi tocca anche Rita non sei esente da questa ultima puntata intanto cosa possiamo dire possiamo dire che FromBeat è sempre andata aumentando in ascolti in presenze che ci seguono ma quello che vorrei sottolineare è che amici che ci seguono amici conoscenti sanno veramente aprendo la mente verso queste nuove cose che noi cerchiamo di divulgare e mi fa veramente piacere che ci siano appunto delle persone che cominciano a studiare a documentarsi anche sulla fisica qualche amico mi ha detto ma guarda mi è interessato il discorso dei domini di coerenza della rottura di simmetria non so più se saranno all'ascolto questi amici ma saluto Fabrizio e Gilberto che appunto avrebbero dovuto essere all'ascolto magari hanno già lasciato perché alle 10 chiudiamo di solito la trasmissione comunque è veramente una soddisfazione dopo quasi cos'è che abbiamo iniziato It From Bit un anno e mezzo siamo arrivati alla 27esima stasera puntata e quindi quasi due anni che portiamo avanti questo discorso la mission di scuotere un attimino le coscienze la consapevolezza di aprire la mente almeno suscitare il ragionevole dubbio mi sembra che ci siamo riusciti voi compagni di viaggio cosa mi dite è stata un'esperienza sicuramente fantastica da portare avanti abbiamo iniziato con un po' di dubbi ma neanche tanti abbiamo detto noi intanto ci incamminiamo e poi cerchiamo di capire che cosa succede abbiamo anche detto fondamentalmente se poi alla gente non interesserà potremo anche decidere di chiudere invece noi siamo qui ad annunciare che ci sarà una terza serie a partire da settembre sempre qui su Radio Sound con la possibilità di vederla anche tramite Facebook e tu Presidente no il Presidente di solito deve fare i saluti di apertura e di chiusura in maniera molto rapida l'unica cosa che mi viene da da dire è quella che veramente abbiamo avuto sempre dei personaggi che ci hanno arricchito con i loro con i loro racconti con le loro esperienze con le loro ricerche stasera chiudiamo la serie prima dell'estate con Adolfo che ci ha veramente entusiasmato con la storia di Majorana è stato veramente anche bello poter girare quel documentario nello scorso nello scorso ottobre e il nostro cammino continua e uno dei prossimi appuntamenti che avremo parlando sempre di spirito di anima e di coscienza il 16 di giugno quindi Laura se vogliamo ricordarlo l'appuntamento di spazio teso il 16 di giugno l'arte di vivere consapevole il 16 domenica il 16 giugno con lo sciamano Ermanu Ichu la giornata comincerà alle 9.30 con un'escursione sulla pietra per duca con una misurazione di energia con un momento di meditazione e nel pomeriggio alle 14.30 ci raggiungerà Ermanu Ichu che nel qui ed ora del momento vedrà su cosa portarci su che livello di coscienza portarci quindi altri appuntamenti molto velocemente il 29 di giugno parleremo questa volta di proseguiremo il discorso della mobilità elettrica iniziata con l'ingegnere Bonifacio che però il 29 di giugno non sarà con noi un delegato della FIA la federazione internazionale di automobili dell'AXAI del reparto sportivo dell'Aci faremo una giornata al Croara Country Club e qui dobbiamo dire grazie a Rita per essersi interessata Rita sta già pensando alle vacanze ragazzi io devo andare devo fare la valigia e fai veramente bene ci sarà una giornata di mobilità elettrica con addirittura momenti conviviali ma con delle prove pratiche con delle vetture ibride ed elettriche però torneremo a Croara anche il 6 di luglio il 6 di luglio avremo anche qui con poi delle attività che renderemo note e in più ci sarà anche Radio Sound no? sì sì ma lì è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa è tutta un'altra storia e ci saranno tante attività comunque perché Spazio Tesla non si ferma mai perché Laura e Alberto non vanno mai in vacanza io sì mentre invece loro non vanno quindi aspettatevi grandi cose anche durante l'estate poi ci hanno già chiesto quando ci sarà il prossimo convegno di fisica e medicina quantistica in tanti lo stanno richiedendo portate pazienza ma stanno saranno di Majorana comunque perché il Majorana dei due proprio parlando con Alfredo e Rolando ci sarà un Majorana dei due l'abbiamo anche promesso da questi micro magari con la macchina dobbiamo dare appunto doverosamente una risposta a chi l'altra volta aveva colto la tua a Butad sì sì no ma noi stiamo proseguendo noi costruiremo la macchina di Majorana allora ci vuole un po' di tempo ce la stiamo mettendo tutta però l'intenzione i propositi ci sono tutti e questi ve li posso assicurare mi sono preso una risposta e giustamente a Marchi c'è anche i soldi perché quello che diceva Adolfo è particolarmente costosa quindi ringraziamo Rolando e Alfredo che ci hanno dato anche questa opportunità di condividere con loro questo cammino e ringraziamo tantissimo il scusa c'è una salutiamo Alberto intanto che c'è perché quando è che ah perché poi stai costruendo la macchina allora potresti sparire potresti sparire se succede se succede che schiaccia un bottone sbagliato esatto quindi puoi sparire se è così va bene va bene volevo ringraziare tantissimo il professor Adolfo Bruno perché insomma abbiamo chiuso credo in bellezza questa seconda serie di It From Beat grazie mille io ringrazio tantissimo io ringrazio tantissimo voi per l'entusiasmo il fascino che riuscite a suscitare e quindi spingete le persone veramente a a interessarsi al sapere perché l'universo è veramente molto molto più complesso di quello che appare grazie bene grazie a Mirko Rossi per la parte audio a Max Vetrugno per la parte video a Riccardo Piacenza che ci ha accompagnato in qualche puntata che questa sera non è presente insomma a tutti gli amici che ci seguono davvero con fedeltà tanta passione e che non fanno altro che amplificare questo messaggio dobbiamo raggiungere una bella massa critica e quindi di lavoro ne abbiamo da fare bisogna fare il salto quantico però sappiate che il cambiamento inizia sempre da noi quindi noi possiamo fare una piccola cosa quella piccola cosa che può essere fatta da tante altre persone può davvero creare questa famosa massa che può creare il cambiamento nel mondo quindi ci contiamo e noi ci saremo da settembre in poi con una nuova serie di It From Bit qui su Radio Sound ciao a tutti ciao 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 buone vacanze It From Bit i quanti la materia l'energia e la coscienza giovedì alle 20 e 30 su Radio Sound le nuove conoscenze della fisica e della medicina quantistica con la partecipazione di scienziati medici e ricercatori una trasmissione realizzata in collaborazione con Spazio Tesla e il congresso Acqua e Coscienza l'interazione che guarisce Ideal Hangster è il costruzio